C'è il cigno in mezzo al parco, fa un giro con il parco, mi sta anche guardando, mi vorrà uccidere, sì, 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 che bello! Il cigno mi sta per guardare, non so che cosa fare, il cigno, il cigno, mi sta per guardare, il cigno, il cigno, così, a caso. Potrei dire, ah, raga, sono andato in un parco e ho trovato un cigno, anche piccolo, perché vedo che è ancora grigio, un po', è nato a maggio, questa è la cosa che so, li ho visti, li ho visti nascere, ma c'è un cigno! Aspetta, raga, ho visto un cigno anche là in fondo, raga, quello là in fondo, quel puntino bianco che vedete è un cigno, raga, che ci fanno tutti questi animali qua? C'è un cigno qua, un cigno là in fondo, c'è un cigno là in fondo, quel puntino bianco che vedete là in fondo, no, non so come farvelo vedere, qua c'è un altro cigno, E qua c'è il cignito normale C'è un cigno, 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 un cigno Così E poi c'è un cigno, dopo c'è un altro cigno là in fondo, trovato Chi mangia? Così succede